Eccoci qua per un altro Robitoys, altro oggetto fantastico, immancabile per qualsiasi collezione di fan di Guerre Stellari, che dire, questo è un po' nella top 5 degli oggetti dell'anno. In realtà da quello che ho visto, dal poco che ho visto, non è importato ufficialmente in Italia ma si può tranquillamente acquistare in canali alternativi che sono poi negozi online, logicamente ad un prezzo maggiorato perché il suo prezzo, se non ricordo male, si aggira sui 160-150 dollari negli Stati Uniti, quindi non vi conviene comprarlo dagli Stati Uniti, è bello che non sapete neanche di cosa sto parlando, ma comunque parto con questa cosa qui, comunque dicevamo 150-160 dollari negli Stati Uniti, non conviene comprarlo uno perché c'è da aggiungere la spedizione, due perché c'è sicuramente questa maledetta insensata e tirannica, come anche si dice, dogana, che ci impedisce di poter acquistare questi oggetti, meno male a un prezzo un po' più onesto, quindi questo si trova in Italia, sempre per canali alternativi, diciamo così, dai 200 in su, l'ho trovato 200, 220, 250, 270, bla bla bla, comunque direi che il suo prezzo a livello europeo è sui 200-220 euro. Di cosa parliamo? Innanzitutto questa puntata la devo fare tutto ad un fiato, non posso rifarla, quindi scusate per gli errori, perché appunto tanto che ci sono farò anche un mega unboxing in diretta. Allora, dicevamo, c'ho un sacco di cose da dire e quindi mi perdo, allora questo qui è uno degli oggetti must, secondo me, del 2015 ormai passato, quindi abbiamo la spada di Kylo Ren che abbiamo già recensito qualche mese fa, abbiamo BB-8 della Sfero, anche questo l'abbiamo recensito e poi dovrà uscire, non ho ancora capito se sia già disponibile o meno, l'elmo di Kylo Ren, versione giocattolo della Hasbro, che però sembra da alcune foto veramente molto accurato, se non per il fatto che comunque è un plasticone e si spacca a metà in orizzontale, quindi non è proprio perfetto, ma secondo me previa qualche modifica, si può perfezionare. E poi altro oggetto appunto di culto e fantastico è questo, questo giocattolone mega galattico che io non potevo assolutamente non avere. Perché? Perché vi faccio vedere questo Tai, questo qui è un Tai Fighter, vecchia trilogia, trilogia classica, chiamatela come volete e ha una cosa differente, facciamo un attimo una storia velocissima, ci sono un paio, adesso non sono espertissimo di giocattoli, ammetto questa mia grande lacuna, però ho visto che sono usciti sempre un paio di tipi di Tai Fighter, tuttora anche per quel discorso di episodio 7, hanno queste due differenti, ovvero c'è questo che è proporzionato, quindi abbiamo le ali che sono belle grandi, belle ampie col cockpit, proporzionato come vediamo nel film e poi c'è la versione, le prime versioni vecchie, queste di qualche anno, le prime versioni vecchie avevano le ali un po' sproporzionate quindi erano piccole e l'effetto non tornava, magari non ci si faceva caso subito, ma l'effetto non tornava, mentre qualche anno fa hanno fatto questa serie decisamente migliore, tutti i mezzi sono proporzionati, dovrebbero essere anche in scala se non ricordo male per action figure da 3,5 pollici e hanno fatto questa cosa, anche questo bellissimo l'ho trovato usato, una trentina di aero fantastico, anche questo non poteva venerlo, ma perché ho questo? Perché qui dentro, signori e signori, c'è il giocattolo, lo chiamiamo giocattolo perché non è un oggetto puramente da collezionisti, ma è un vero e proprio giocattolo del TIE FIGHTER di episodio 7, parliamo del TIE FIGHTER del primo ordine, quello nero, quello che usa Poe Dameron per fuggire dallo Star Destroyer insieme a Finn, che è un po' diverso da quelli dell'inseguimento nelle desolazioni di Shaqq, ed è in scala 6 pollici, ho sbagliato di dire di scala 6 pollici, però è compatibile con le Black Series, infatti questo è un NASBOR sempre Black Series delle 6 pollici, cioè, guardate, ve li prendo perché li ho qua un pochino, appunto, vedete questo, questo è un solo della vecchia serie Black Series 6 pollici, anche questo fino adesso non sono mai state importate in Italia perché pensavano non ci fosse richiesta, credo che da adesso in poi in teoria dovremmo trovarle in alcuni negozi, non in tutte, comunque, per farvi capire che questa è la proporzione, ok? Io qui ho anche la versione del pilota da 3 pollici e mezzo, quindi questo qui, questo pilota qui si adatta a questo TIE, questo qui si adatta a questo TIE come proporzione. Il discorso che è immenso, è enorme, è enorme, fate conto che il cockpit, ovvero la cabina di videostaggio è quasi come se fosse una palla, una palla da basket e per questo io non potevo assolutamente stare senza questo oggetto fantastico, quindi andiamo subito all'unboxing in diretta, sono abbastanza eccitato perché mi è arrivato già da qualche giorno, ma non l'avevo trovato, ok, ho già segato la scatola, molto bene, collezionista della CIPA, ma poco importa perché tanto comunque l'aprino, faccio un po' di pubblicità al venditore, che se qualcuno ne abbia ancora, perché è stato molto gentile e disponibile, mi ha anche aiutato nella spedizione e cercando di risparmiare il più possibile, Anime Toys di Milano, che saluto, saluto Giorgio ed ora è il momento di questo fantastico e gigantesco unboxing. Allora direi che per rendere la cosa un po' più teatrale, direi quasi quasi di sventrare questa scatola in modo da, senza fare anteriori danni, perché così ve la mostro. Eccoci qua. Mamma mia se è gigante sto coso. Super mega catafalcone salamandrone, ho giocato lo salamandrone dell'anno. il salamandrone. Il salamandrone toys. Questo è il momento più bello e più brutto perché vorreste aprirlo immediatamente, ma c'è tutta sta carta maledetta. Mamma mia. Quella roba enorme. Però non è pesante perché appunto, come dicevamo prima, è comunque un giocattolone. Togliamo questa scatola senza creare alcun danno. Non è facile. Ed eccolo qua. Sbebam. Sbebebam. Super sberla. Veramente enorme. C'è in dotazione, logicamente, questa esclusiva action figure, sempre Black Series, 6 pollici, appunto, del TIE Pilot, però quella con le lacrime rosse, che è un po' un'incongruenza perché questo personaggio in realtà pilota il TIE Fighter semplice. Perché semplice? Perché ne abbiamo due in The Force Awakens. Il primo appunto è quello che ruba Poe Dameron con Finn, che ha questa fascia rossa. Questa fascia rossa sta a denominare in pratica una sorta di elite group appartenente al primo ordine. Quindi una sorta di mezzi per personale scelto, per combattenti scelti appunto del primo ordine. Mentre quelli che vediamo ha un'altra cosa che non ho ancora capito. Ha una serie di, io li chiamo caricatori, non capisco, una sorta di caricatori attorno ai supporti per le ali laterali che lo rende un po' pitozzo e un po' particolare. È lo stesso modello che abbiamo visto anche per la Lego. Quindi dicevamo, questo pilota qui in realtà nel film non pilota appunto questo TIE Fighter, ma pilota la versione semplice che non è altro che la versione che abbiamo visto nella trilogia classica. Logicamente nera con gli inserti delle ali bianche come questo, però non ha questi caricatori e non ha questo pannello rosso. Andiamo ad aprire questa bellissima, bellissima scatola, che però dovrò purtroppo non dico sacrificare, ma... Eccola qua. Ecco qui, io la mia collezione del Black Series ammetto di averla tenuta chiusa, mentre questa no, non posso. Vi faccio un po' vedere la scatola, dai cerchiamo di farci vedere la scatola un pochino, anche perché secondo me questa era stata aperta ma poco importa. Come potete vedere 0.1, veramente massicissima, qui abbiamo un po' di dettagli, fantastica. La classica scritta Black Series che denomina, come dicevamo precedentemente anche per la lightsaber, una serie un po' più accurata o di qualità. Qui abbiamo il TIE Pilot in una versione grafica minimale fantastica. E poi adesso direi che possiamo finalmente aprire questa salamandrata gigantesca. No, ancora no, c'è dell'altro scotch. Oh, cartone, che mettiamo via. Mamma mia, mamma mia. Un costume da romano o... È veramente gigantesco. Ok, questo per farvi capire è il cockpit. Questo è il cockpit. Per fare un po' di proporzioni. Questi sono i due cockpit. Cioè è una roba praticamente in mani. Questo entra nell'altro e già mi sembrava grande questo qui. Quindi veramente... Com'è che dicono gli ammarigani? Bigger is better. Non lo so. Eccolo qua. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. È veramente notevole. Non è sicuramente della Hot Toys o della Sideshow, quindi iper dettagliatissimo. È comunque un giocattolone con i difetti del caso. Quindi non mi sto a stupire più di tanto. Anche perché se fosse stato della Hot Toys da sei pollici sarebbe costato probabilmente un migliaio di euro. Questo ne costa duecento. Però, devo dire la verità, è molto dettagliato. I due posti. C'è anche un accenno di weathering molto interessante. Anche se appunto un accenno ma va benissimo, è apprezzabile nonostante tutto. E questo è il cockpit. Andiamo ad aprire. Ecco, la cosa che fa veramente impressione e che però purtroppo e anche in questo caso, ho già notato, difetta, è che le ali sono talmente ampie che la plastica non rimane perfettamente dritta e quindi qualche piega la fa. Quando dicevo scudo da romano capite il motivo. Ecco, la spada di Kylo Ren potrebbe essere un cosplay molto interessante. Questa è un'ala. Anche qui facciamo la comparazione per farvi capire. Eccola qua. Quindi abbiamo ala 1. In realtà sono tre pezzi, sembra. Forse qualcosina di più. Ala 2. La parcheggiamo qui sopra. Cominciamo a tornare un po' di roba. Qua abbiamo l'action figure. Vediamo la copertura. Indicazioni mediche, attenzione, tenere lontano. Una sorta di, cosa abbiamo qua? Le istruzioni. Le istruzioni sì, sono veramente tre pezzi inconnoce. Quattro pezzi quindi sì. Le istruzioni anche queste molto minimali. Logo Disney sempre in evidenza. E poi abbiamo la action figure. Che direi esattamente è già aperta. Quindi me lo potrò godere dal vivo. Una di queste black series, come si deve. In realtà ne ho già un altro. Ho un fin un po' che ho una scatola danneggiata. E quindi ho aperto. Spostiamo la salamandrata scatolanica. La scatolazione salamandrata. Mi piace questo modo di parlare un po' insuncio che mi diventa sempre assai. Ok. Qui abbiamo anche i cannoni. Quello che all'inizio sembrava dov'essere un'antenna. C'è una piccola leggenda sulla realizzazione di vari giocattoli. Di cui appunto questo Tai. Principalmente la sapevo per quello che riguardava il mondo Lego. Ma credo che corrisponda un po' per tutto. In pratica la segretezza per questo film. Era enorme come tutti sapete. E quindi quando dovevano realizzare le varie case di giocattoli. Appunto questi modelli. Avevano dei progetti che però sembra non fossero precisi al 100%. Lasciavano un po' di spazio all'immaginazione. Per esempio Kylo Ren. Il set dello shuttle di Kylo Ren. Come sapete o se non sapete controllate in rete. Alle ali dritte. Quando invece nel film sappiamo che si aprono. Un po' per ricordare lo shuttle lambda di Vader. Nella trilogia classica. Ecco nel modello Lego no. Sono fisse. Pari pari. Non si possono aprire. Tanto che molti appassionati come me. Insomma l'abbiamo modificata. Non poco. Non sicuramente facilmente. L'abbiamo aperta perché questa intolleranza. Questa non accuratezza era intollerabile appunto. E quindi anche per quello che riguarda il Tai. Logicamente sempre seguendo il filone Lego. Ma anche questo. Praticamente aveva questa sorta di antenna. Che all'inizio sembrava un'antenna. In realtà è un cannoncino. Che però nel film non lo vogliamo usare. Comunque. Eccolo qua. Come detto prima. È comunque un giocattolone. Si monta veramente in 02. Qui abbiamo l'antenna in questione. Che in realtà si vede chiaramente che è un blaster. Ed è molto interessante perché ricorda tantissimo il design dei blaster della vecchia trilogia. Cioè un po' quelli che erano le armi che utilizzavano nella vecchia trilogia. Che non erano altro che mitra, fucili, pistole. Dei tedeschi usati nei film che rappresentavano la seconda guerra mondiale. E questo non fa differenza. Ricorda vagamente. Non è la stessa cosa ma. Eppure sembra che possa girarsi ma non si gira. Non capisco se sia. Non vorrei romperlo. Vabbè. Per adesso lasciamo questa cosa. E poi abbiamo. Eccolo qua. Si può girare ma non si può girare in un certo senso. Mi sembra strano. E poi abbiamo questa sorta di cannoni ventrali. Come dice il generale Hux. Simile. Lo disegna lo stesso. Ma non è in quel modo. E vanno esattamente qua. Ed ecco qua il nostro mega salamandrone. Ci si può fare anche ginnastica praticamente. Tie fighter primo ordine. Elite diciamo. Chiamiamolo così. Group. Black Series 6 pollici. Questo è il tie fighter. Togliamo fuori anche il pilota. Fantastico. Design nuovo. Decisamente fetish. Che però. Qui in realtà non lo vediamo fetish. Perché. È plasticone. Ma è tutto molto latex lucido. Molto. Molto particolare. Bellissimo. Ve lo mostro. 6 pollici. Lui mettiamo nel cockpit. No. Non lo mettiamo nel cockpit. Lo lasciamo qui. Perché così è più bello. Ok. Eccolo qua. Fantastica in tutta la sua maestosità. Devo dire che i pannelli nonostante tutto. Sono abbastanza dritti. In un anno delle gran pieghe. Anche se. Come potete vedere. Non riescono a tenere comunque la dimensione. Quindi un po' di curva la fanno. Ma. Ribadito. Non si può chiedere tutto. Soprattutto perché. È un giocatore. Eccolo qua. Montato. Veramente pochissimi pezzi. Bellissimo. 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 Oggetto da avere assolutamente. Grazie di tutto. Grazie per supportarci sempre con i nostri video. Mi raccomando un buonissimo 2016 per tutti. Da che ci siamo il 16 dicembre del 2016. Uscirà The Rogue One. Il primo spin off della storia di Star Wars. Dopo le avventure degli Ewok. Niente. Che dire. Grazie ancora. Mi raccomando. Seguiteci. Mettete like. Followateci. Diventate i nostri follower. RobiRani su Facebook. LegaNerd sempre e comunque. Empira Star Wars Fan Club. Lego Star Wars Addicted. Mi raccomando. Sempre. Passione comunque. Dai fan per i fan. Ciao a tutti.